Si chiama Generazioni Connesse ed è un progetto suddiviso in vari incontri di scambio intergenerazionale tra giovani e meno giovani con il coinvolgimento degli studenti dell'ente di formazione IRIGEM e il patrocinio del comune di Rosà. L'obiettivo è quello di superare il divario digitale. In poche parole i giovani studenti insegnano ai nonni del centro diurno di Rosà a familiarizzare con la tecnologia, spiegandogli come usare lo smartphone, come fare videochiamate, navigare in internet e tanto altro. Grazie a IRIGEM, ad alcuni ragazzi che frequentano questi corsi legati alla tecnologia e al loro insegnante che si è reso disponibile e da loro supporto, abbiamo ideato questi incontri molto pratici. È un bellissimo progetto nato nei banchi di scuola, una sfida con i ragazzi perché parliamo spesso di come devono loro spiegare le cose difficili agli altri e chi non è meglio dei nonnini. È anche una buona esperienza per il nostro futuro come esperienza formativa e anche per in casi futuri per abituarci a parlare anche con eventuali clienti. I più contenti sono loro, i nonni di Rosà, moderni e tecnologici, ma con il sorriso tradizionale e senza tempo di chi si è ritrovato circondato da tanti nipoti acquisiti. Lei mi hanno detto che è una di quelle che ha fatto più domande, quindi più tecnologica. perché avevo uno che mi arrivava messaggi e io non volevo e non riuscivo a cancellare, lui mi ha sistemato. Dove che dovevo arrivare sono arrivata e sono contenta. Mi ha insegnato come fare la videochiamata. Cosa può fare la videochiamata ai nipoti? Esatto, specialmente a me fiora. Grazie a tutti.